E' tanto che andiamo... E' tanto che andiamo sopra e andiamo sopra. Sì, andiamo fino a sopra. Eh, questo le merite, Maria Carmela. Molto volentieri. Sto cercando di spiegare a mia perché mi piace colar con un baleno, no? Devo trovarlo. Molto santo. Continua a fare alla parola. Molto santo. E' un pomeriggio. E' un pomeriggio. Eppure! E' un pomeriggio. Arredatamente,graduate pubblica. È un pomeriggio. E' anche un pomeriggio. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.